Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia le prime due cause di morte per malattia sono addebitabili a problemi al sistema cardiocircolatorio e al cancro e purtroppo negli ultimi due anni queste due casistiche hanno visto un notevole aumento dei decessi. Cosa si può fare per prevenire il cancro, malattie autoimmuni ed altro? Diamo ora la parola al dottor Paul Merrick che afferma che il cancro diventerà la causa più importante di morbilità e morte ma allo stesso tempo ci parlerà di una splendida soluzione gratuita che l'Unione Europea, l'amministrazione Biden, George Soros e Bill Gates stanno però boicottando investendo un mucchio di soldi per privarcene. Buona visione, potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram, iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su Telegram e condividete il video. Più siamo più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby